Musica Ben trovati telespettatori di TV6 e l'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di martedì 21 febbraio. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare l'Italia e il Mediterraneo pressoché sgombra da perturbazioni e quindi caratterizzati dalla presenza di tempo stabile. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche risulteranno soleggiate su tutta la regione. La ventilazione risulterà debole e variabile e i mari saranno generalmente calmi o a limite poco mossi. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche non vedranno grosse variazioni rispetto alla mattinata appena trascorsa, con i cieli che risulteranno ancora prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. Inoltre le temperature massime risulteranno in aumento su gran parte della regione con valori compresi tra gli 11 e 15 gradi centigradi. A partire dalla serata le condizioni meteorologiche continueranno a risultare stabili su tutto il territorio regionale, con i cieli che risulteranno poco nuvolosi o nuvolosi. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Grazie a tutti.